Diversi decenni fa, per la prima volta in Italia andò in onda una serie di Candid Camera. La Candid Camera, come saprete, consiste nell'effettuare riprese in cui la telecamera è nascosta, per osservare poi la reazione di una o più persone alla situazione architettata dal regista. Ad esempio, molti di voi ricorderanno senza dubbio la famosissima Candid Camera del cornetto insuppato dall'attore nel cappuccino di un'altra persona. Tra le Candid Camera che andarono in onda in quel periodo, ce n'era una che mi colpì particolarmente, tanto che, pur essendo trascorsi diversi decenni, ancora la ricordo distintamente. Ho deciso di condividerla con voi in quanto, a mio parere, costituisce un esempio eclatante di come il comportamento di una singola persona possa essere influenzato dal comportamento di gruppo. La Candid Camera suddetta si svolgeva in una sala d'attesa, nella quale si trovavano una decina di persone sedute su altrettante sedie. Di queste persone, nove erano attori, di entrambi i sessi e di varia età. Quindi alcuni attori erano giovani, altri in età matura, altri erano anziani. La decima persona era quella di cui si voleva osservare la reazione. Ad un certo punto, da sotto la porta in cui le persone in attesa dovevano entrare una volta giunto il loro turno, da sotto la porta cominciava ad uscire un sottile filo di fumo. Mentre gli attori facevano finta di nulla, Continuando, chi a chiacchierare con la persona seduta accanto, chi a leggere il giornale, eccetera, la persona di cui si voleva osservare la reazione, dopo essersi accorta del filo di fumo che usciva da sotto la porta, cominciava ad osservare una per una le altre persone, aspettandosi che almeno una di esse reagisse. Ma vedendo che nessuna di quelle persone reagiva, la persona che faceva da avia strabuzzava gli occhi, ma poi stava zitta. Dopo qualche minuto, il filo di fumo diventava più corposo, ma la situazione rimaneva la stessa. Gli attori non reagivano, non reagiva neanche la avia. Infine, assieme al fumo, iniziavano ad uscire anche delle scintille, ma gli attori, logicamente, continuavano a far finta di nulla. L'esperimento fu ripetuto una quindicina di volte. Gli attori rimanevano gli stessi, mentre la persona che faceva da avia naturalmente cambiava ad ogni registrazione. Pertanto, in tale maniera, fu testata la reazione di parecchie persone, sia maschi che femmine, di varia età. Ebbene, tra le persone testate, solo due o tre, alla vista delle scintille, senza dire nulla agli altri, si diedero alla fuga uscendo dalla stanza. Tutte le altre persone testate rimasero nella stanza immobili e zitti, mentre da sotto la porta continuavano ad uscire fumo e scintille. Avrebbe potuto esserci anche un'esplosione improvvisa. Ad esempio, avrebbero potuto esplodere le condutture del gas usato per il riscaldamento. Ma nonostante ciò, la maggior parte delle persone che fecero da avia rimasero ferme e zitte per non distaccarsi dal comportamento del gruppo. Un esperimento che si commenta da solo e che ho voluto condividere perché ritengo che possa essere utile per comprendere fino a che punto una persona possa farsi condizionare dal comportamento di gruppo. Chi ha orecchie intenda. Grazie. Grazie.